Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Benvenuti in questa nuova guida al platino. Oggi giocheremo a Peasant Night, un titolo di Rata Laika Games venduto sul PlayStation Store in cross-buy per PlayStation 4 e PlayStation Vita a 2,99€. È un titolo che offre in tutto 17 trofei incluso il platino e si tratta di un gioco tipo puzzle platformer con movimento forzato in cui si può giocare solo con due tasti, il salto e lo stop dato dalla pressione della croce direzionale per far fermare il nostro protagonista e poi evitare trappole, saltare oltre dei dirupi, sfuggire ai nemici e così via. Per ottenere il platino dovremo raggiungere il livello 47 e ci saranno un sacco di trofei intermedi che si sbloccheranno raggiungendo vari livelli, morendo almeno una volta con le varie trappole disseminate lungo il livello, superare almeno il primo boss e così via. Comunque ve le spiegherò man mano. Prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare un like, scrivere un commento per farvi sapere cosa ne pensate e condividere il video con gli amici. Inoltre se vi interessano altre guide al platino ne trovate molte altre sul nostro canale sia nella home page e inoltre vi lascio il link alla playlist completa nella descrizione di questo video. Quindi iniziamo, partiamo dal primo livello. Questa è una breve introduzione che ci fa capire che cosa è successo e il primo livello è giusto un'introduzione. Come vi ho accennato prima possiamo, abbiamo il movimento forzato quindi il nostro cavaliere si muoverà in automatico e quello che abbiamo raggiunto è un diciamo teletrasporto per sfuggire dal livello. Andiamo avanti. Qui ci sono dei raggi laser che dovremmo evitare premendo la freccia a sinistra per fermare il nostro protagonista. Quella che vedete in alto, in alto al centro, è una barra che si riempie col passare del tempo quindi abbiamo un tempo limitato. Una volta riempita la barra un fulmine ci colpirà in testa quindi vanificando tutti i nostri sforzi. Ci sono dei trofei anche per diciamo le varie possibilità di morte con il fulmine, con cadendo eccetera. Adesso poi le vedremo. I primi livelli sono molto semplici. Pian piano cominciamo a vedere anche dei nuovi elementi di design come i ponticelli che si alzano. Dobbiamo anche stare attenti a non farci schiacciare perché se andiamo troppo oltre rischiamo di farci schiacciare durante la salita del ponticello. Adesso qui si salta. Sono stato colpito dal raggio laser quindi ho sbloccato il trofeo per la morte. Adesso mi ha colpito il fulmine, ho sbloccato un altro trofeo. Sono caduto nel vuoto, vediamo se ho sbloccato un altro trofeo. Sì, there is no floor. Ok, proviamo a superare questo livello. Anche il nono livello archiviato, andiamo avanti. Abbiamo superato i primi dieci livelli, adesso le piattaforme cominciano ad essere molto più piccoline. Anche la sega elettrica ci ha permesso di sbloccare un altro trofeo. Per un pelo. Stiamo andando abbastanza bene. Adesso qui dovremmo saltare questo muretto e cercare di saltare abbastanza in là per arrivare all'altra piattaforma. Stessa cosa. Il tempo sembra sempre più breve a disposizione, sembra sempre giusto giusto. Ah, qui è meglio fermarsi subito dopo il ponticello. Ok. Di corsa, di corsa. Doppio raggio laser. Ecco, adesso ci sono degli ulteriori teleport che dovremmo prendere per sbloccare anche dei trofei. C'è questo verde, ci sarà quello rosso che è una trappola e anche quello giallo. Abbiamo sbloccato il trofeo per aver preso questo teleport e sbloccato il trofeo Now is Green. Adesso c'è quello rosso che prenderò anche se è una trappola. E ci ha sbloccato il trofeo. Non dobbiamo prendere il teleport rosso ma andare oltre per superare il livello. Qui fermi. Ecco, mi sono schiacciato. Ah. Ah. È passato troppo tempo. Ok. Vediamo qua che succede. Ok. Il ponte ha superato due piattaforme, quindi pian piano cominceranno a esserci questi livelli che ci fanno questo tipo di scherzetto. Ok. Abbiamo preso anche il teleport giallo e ci ha sbloccato un altro trofeo. Questo è il primo boss. Dovremmo, diciamo, superarlo per tre volte. Sulla destra ci sarà un teleport che ci riporterà indietro. Il boss cambierà pattern d'attacco e pian piano si abbasserà permettendoci di raggiungere l'uscita del livello che è in cima alla sua testa. Ci potrebbero volere un po' di tentativi però è solo una questione di abitudine. Per il primo giro non fermiamoci davanti al boss, andiamo oltre. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, una volta completato anche quel giro lì, basta fermarsi dopo il primo pugno, aspettare che la testa si abbassi e fare un salto per uscire. Ok, qui ci sono dei nemici che ci correranno incontro, dobbiamo cercare di usare i raggi laser contro di loro per eliminarli. Stiamo fermi? Ok. Perfetto. Adesso qui dovremmo superarne in salto un paio. Ah, qui bisogna fermarsi un po' sul trampolino. Vediamo se c'è un trofeo perché... no. Perfetto. Ah, avrei dovuto raggiungere la piattaforma. Adesso qui facciamo scattare entrambe le piattaforme. Ah, non ce l'ho fatta. Ah, avrei dovuto raggiungere la piattaforma. qui le piattaforme si muoveranno velocemente. Basta solo stare attenti e premere lo stop giusto in tempo. e ci siamo. Siamo a buon punto, ne mancano meno di dieci livelli. Qui ci sono dei livelli con il ghiaccio, bisogna stare attenti perché dove c'è il ghiaccio un pochino più scuro non potremo saltare come al solito e inizieremo a scivolare andando incontro alle trappole come le lame che vediamo davanti. La neve un po' più bianca invece ci permette di fermarci normalmente. livello 40 superato. Qui fermiamoci. adesso ci sono dei muri che ci rimbalzeranno facendoci tornare indietro quindi bisognerà prendere un po' la mano perché per fermarsi bisognerà prendere la freccina destra della croce direzionale e queste direzioni cambieranno in alcuni livelli più velocemente. anche il livello 42 43 43 anche il livello 45 superato, manca l'ultimo, dobbiamo arrivare al 47esimo ma non superato. non necessariamente quindi basta superare ancora questo. ecco anche il 46esimo livello superato, siamo arrivati al 47esimo e ultimo. abbiamo sbloccato l'ultimo trofeo d'argento e il platino di Peasant Knight. quindi ragazzi io mi fermo qui con questo video. spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti